Il direttore Padellaro, che ha fatto anche, secondo me, ha giocato una carta di responsabilità istituzionale, cioè Islan, che comunque non ha mai avuto nessun incarico istituzionale, si è comportata come qualcuno che ha una cultura delle istituzioni. E in questo ha messo in difficoltà Conte, che ogni due per tre rivendica il fatto di essere stato per ben due volte Presidente del Consiglio, con maggioranze, chi più ne ha più ne metta, e aspira a tornare un'altra volta alla presenza del Consiglio. Questa è un'ottima mossa, anche in quel senso, perché è andata a toccare un asset che Conte pensava fosse un asset forte. Quindi, anche nella logica delle querelle sull'elezione del sindaco di qua, del governatore di là, è un colpo. Cioè di porsi come chi ha il profilo per stare al governo, insomma, che è una gara. Guardare al mondo, che è la dimensione che in genere è più latita dal dibattito politico italiano, che è estremamente provincializzato e non riesce a capire che tutto avviene però in contesti molto più ampi. Certo. Allora, ci dobbiamo fermare. Vedo già Paola Caridi in collegamento. Saluto Antonio Padellaro, che so che doveva andare via. E restate con noi.